Sono felice e sollevato nel sapere che il bambino ha abbandonato in via posti a Bene. Voglio ringraziare coloro che hanno dato l'allarme, gli operatori del 118, le forze dell'ordine e i medici del reparto di pediatria del San Donato, in particolare il dottor Martini. Questo bambino sarà il bimbo di tutti gli aretini, così il sindaco Alessandro Ghinelli, che attualmente si trova all'estero tramite il suo profilo Facebook in merito alla notizia del piccolo di soli tre mesi ritrovato questa notte da due ragazzi nell'androne di un edificio di via Piave. Al momento il piccolo prosegue Ghinelli e è affidato al reperto di pediatria del nostro ospedale, in attesa che il Tribunale dei minori valuti ogni aspetto della vicenda. Ancora tutta da chiarire, l'amministrazione comunale sarà comunque pronta ad ogni iniziativa di cura e sostegno, in primo luogo per il minore ma anche ovviamente per tutta la sua famiglia. L'episodio infatti ha ovviamente attivato tutta la rete dei servizi sociali del comune di Arezzo. Quello che è chiaro fin da ora è che il bambino sta bene, come ricordava il dottor Martini, che in questo momento è affidato alle cure della pediatria e poi aspettiamo successivamente se farà parte di quei minori di cui dovrà prendersi cura l'amministrazione comunale o meno. Quello che è sicuro è che evidentemente c'è da domani mattina un percorso di approfondimento, di attenzione verrà attivato tanto per il minore quanto ovviamente anche per una famiglia che si trova evidentemente in un momento di difficoltà e di criticità. Quindi è chiaro che l'aiuto non può mancare neppure per questa mamma e questo babbo che in qualche momento di difficoltà evidentemente l'hanno avuto.